E' per questo che vogliamo un AI Act, per questo che sosteniamo un regolamento che metta delle regole chiare a tutela dei cittadini e della nostra democrazia dai rischi dell'intelligenza artificiale. Vogliamo che sia un'opportunità, quindi mettiamo regole per i deepfakes, vogliamo impedire l'uso del controllo emotivo sui luoghi di lavoro e a scuola e non vogliamo la sorveglianza di massa con le telecamere biometriche. E' per questo che ci stiamo lavorando e vogliamo ottenere questo risultato per tutti i cittadini e le cittadine europee.